Partire dalle responsabilità, dal consenso e dalla verità per analizzare come non si possa costruire ingannando i propri elettori, eludendo così la grande tentazione del tutto umana di volere il potere a tutti i costi, passando attraverso i dogmi della Chiesa, dei suoi processi e dei suoi insegnamenti, purtroppo a volte difficili da attuare nella nostra società. Come poter porgere l'altra guancia a uno come Putin? È stato un viaggio a dir poco profondo, quello analizzato da Rosi Bindi, invitato dall'auditorium San Baudolino di Alessandria per il secondo appuntamento dei martedì di Quaresima, organizzati dalla locale Diocesi, presente come sempre alla serata al Vescovo Monsignor Guido Gallese, in collaborazione con il Centro di Cultura dell'Università Cattolica di Milano. L'ex ministro, introdotto dal costituzionista Renato Balduzzi, che fu proprio consulente della Bindi per le riforme sanitarie del 1999, ha risposto al delicato quesito posto dalla serata, ossia come difendersi dalle tentazioni del potere, spaziando tra quelli forti e occulti dettati dalle mafie. Oggi la mafia non si macchia più del sangue delle stragi politiche, poiché la politica è più debole e perché i nuovi obiettivi sono diretti al potere economico, fino a una disamina attente e puntuale rivolta alla politica, troppo spesso lontana dal concetto del perseguimento del bene comune. Non sono mancati gli accenni sulla pandemia da Covid e sulla guerra in Ucraina. Fossi stata ancora al Parlamento, ha detto Bindi, sarei stata favorevole al primo invio di armi, ma poi mi sarei chiesta insieme all'Europa quale strategia adottare per favorire il processo di pace. Oggi l'unico politico riconosciuto in tutto il mondo è Papa Francesco. Io credo che la strada maestra è appunto quella di ricordare a noi stessi, a chi sceglie di esercitare questa responsabilità nella comunità, che il fine della politica è quello di costruire il bene comune. Tutto ciò che si allontana da questo è in qualche modo un cedimento a tanti tentativi di aggredire in fondo la politica, la democrazia, la vita insieme. Io non lo so se ho resistito a tutte le tentazioni, sicuramente ci ho provato, proprio mossa da questa visione della politica che mi deriva in fondo dalla mia formazione cattolico-democratica. Lo Sturzo diceva che la politica o è questo o non è, quindi ho cercato di essere coerente con questa visione, chissà se ci sono riuscita. Si può stare al potere in molti modi, si può stare al potere intendendolo, non è facile, non è retorica, intendendolo come servizio che significa semplicemente disinteresse personale, quell'onore di cui parla l'articolo 54 della nostra Costituzione che dice che chi ha cariche pubbliche deve esercitarle con disciplina e onore.